Allora, 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 il cammino... sì, vabbè, dai, non è molto difficile L'unica cosa dobbiamo, prima di sfidare lo stock, verificare quanti giorni di riposo Ok, oggi finiamo tutte queste, eh Finiamo tutto febbraio e dobbiamo testare il nuovo attaccante, D-Lap Che ha preso il posto di Bruno, che è andato oltretutto in presto per migliorarsi L'ho voluto mandare in presto per migliorarsi Cambia, se torna in panchina Abbiamo tutti Caro stock, oggi dovrai perdere, ci serve la vetta Ecco, D-Lap è bello alto, eh Sembra anche veloce e ha anche un buon tiro L'unica cosa è che devo migliorargli le skill, perché ha 4 di debole se non erro Raspa, suo assist D-Lap Raspa ha perso Bruno, il suo amico fiero di assist è Goleade Ha trovato D-Lap, già un assist Che cattiveria che hanno questi due D-Lap Uuuuh, subito Le ha reso subito l'assist Grande Raspa Bravo, bravo Boyce Clark Questi qua ne siete un po' ad attaccare Giusto così, d'altronde Raspa è un'altra occasione per farti la doppietta personale Raspa Su assist d'insigne, la decima in classifica al momento declassata dei Red Devils In 18 minuti Bello Raspa per Lorenzino Provala a incrociare Madonna, il piede è debole da sistemare Vabbè, no, vabbè, vabbè Sto portiere se continua così Veramente non lo cambio il prossimo anno Dopo sta parata C'ha dei riflessi Quando l'ho preso da svincolato era un 68 In serie C Era penoso Però è migliorato tantissimo in prestito Ehi Non ci credo Non ci credo che stanno provando a rimontare Con Surridge Che cazzo è il cugino scemo di Starridge? C'è, vabbè, vabbè Sensi, quando impazzisce Fa paura Ecco perché Nella Nella Lo volevano tutti Mi sono bloccato con la lingua Doyle Prima ho detto che Doyle era sempre sul pezzo Ma Doyle ha tirato dritto Senza ricordarsi che è un difensore Sè, vabbè Sè, vabbè Guarda cosa stava per risolvere Comunque è finita 3 minuti e 50 I cambi non si sono sentiti Per nulla Sono entrati Non hanno fatto nulla Allora Andiamo a sfiare lo Sheffield Quarto in classifica Quindi Ufficialmente abbiamo 5 punti di distacco Ed è uno scontro diretto Abbiamo il Watford Praticamente a un punto di distacco Non possiamo permetterci grandi cazzate Anche perché se non erro C'è anche già battuto lo Sheffield All'andata Vorrei evitare le coglionate nostre Andiamo Maglietta bianca Magliettana Tutti e due con quella Della trasferta E ci proviamo Abbiamo un attaccante più forte Stavolta Ok Non bisogno Guardate ragazzi eh Vi voglio perfetti Basta anche l'1-0 Vabbè Sensi che stacca così impetuosamente di testa A me fa paura Era un bestione quello Riproviamoci Eh Sensi in ritardo il passaggio eh Mi sa che è fuorigioco Non è in fuorigioco Col 4 di piede debole D-Lab Sblocca la partita Il 27esimo Ricordiamolo È uno scontro diretto È fondamentale vincere Boys Sei un pazzo Sei un pazzo Boys Clark Tu sei un pazzo Furioso È questione di reggere È di reggere Stanno giocando bene Ma non tirano È questo La nostra grandissima fortuna Comunque Sensi È strano Mi anticipa quasi tutti di testa Ne perde veramente pochi eh Lancio lungo Eh Peccato che sei Piedi quadrati Altrimenti quello era un altro gol Riprovala Stefani Eh Era in porta eh Era in porta È impossibile passare È impossibile passare Sta difesa a 5 Ah Blocca tutto Ma che Ma che Che azione Fenomenale Abbiamo fatto dalla difesa Complimenti al portiere però Complimenti al portiere Ha tolto Una Sperla Tienila 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 Bravo Raspa Bravo Raspa Bravissimo Raspa Mamma mia come ti sto fulminando Oh albero Fischia però eh Oh Ah ecco Vinta Fondamentale Tre punti Stacchiamo la quarta classifica Siamo a febbraio Quindi è importante Bene Contro i settimi Contro i settimi Poi abbiamo altri Praticamente Una settimana di riposo Quindi giocavo sempre con gli stessi Dai 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 Subito No Ho sbagliato il tasto Ho sbagliato il tasto Premuto quello del pallonetto Mannaggia me Era goal Quello Oh raga Facciamolo tirare con tutta la calma del mondo Per carità Non ci stiamo giocando mica alla promozione No Oh ogni tanto mi fischia una punizione Che cosa bella Mamma mia che schifo Stop Vabbè Stop è parata Perché che cazzo Non puoi segnare Bravo Lorenzie Ottimo che il portiere Non ha avuto le palle di uscire Paperissima qui del portiere Poteva uscire quando voleva Ma Lorenzie L'ha avuto il coraggio Di metterla lì Bravissima anche a pia Continua Eh Sì Ormai ci sei Ho fatto Ho risbagliato il tasto Oggi cosa c'ho nelle mani Burro Hanno bucato Però D Non puoi fare sti controlli Così Pazzia di raspa Bravo portiere Però Si danno una svegliata Magari possiamo anche Vincerla Seppero Mamma mia Che confusione Qui Che confusione Qui No 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 Due tiri mi hanno fatto Mannaggia loro Sensi Per Poco Bisogna fare altri due cam Togliamo Coppola Che non sta aiutando tantissimo Buttimo The Fine Con il nuovo numero di maglia E Derosa al posto di Dilap No Doyle No Doyle Ci siamo fatti fare il buco Del culo Da sti qua Guarda che se ne prendiamo Quattro in casa Mi incazzo Non è No è impossibile Recuperarla questa Impossibile Recuperarla Mamma mia Che figura di merda Che ci abbiamo fatto Non va bene così Non va bene così Comunque non siamo Molto fortunati oggi Eh pure il Bormut Sesto e classifica Ultima nel senso Per febbraio Ultima di febbraio Giro Proprio Mese infernale Questo Bellissimo Sta giocata di raspa 1 a 0 1 a 0 Zitti tutti 1 a 0 No Bernard Bernard Mannaggia a te Spero che non segnino Perché altrimenti Ti cambio Ti cambio adesso eh Non lo cambio Perché siamo 11 minuti Ma Mannaggia a Bernard Bello Bello raspa Vai Dilap Provaci Dilap Stortos Dilap Bravo Bravo Blowboys Bravo Boys Non deve tirare Niente Dai Ma giochiamoci il campionato Così Non so come cambiare La situa qua Dai Oh Che culo Che culo Che non te l'assi fatta prendere Eh vabbè Non prendi manco la palla Però Fuori quel cotto Di insignia Ci buttiamo Mike Zin E' un po' facile Gli altri cambi Ottimo Dilap Non è possibile Ci ha tolto Il miracoloso Ha tolto Dilap Provaci Traversa Sensi Sensi Ancora lui Il capitano A risolverla 3 a 2 All'ottantanovesimo Anche se meritava di più Il gol Dilap Con quella cazzo Di incornata Fan culo Però Bormut Che si deve stare zitto Esultiamo bene Dai cazzo Ma che gollo Cioè L'angolata bene in me Dai va bene Teniamo Mancano 5 secondi Teniamoli un attimino lì Teniamoli un attimino Oh Alberò Devi fischiare Dai cazzo Un'altra Preziosa Vittoria Vediamo la situazione In classifica Di nuovo primi Ma abbiamo una parita in più Rispetto a Watford E Barley Quindi dovremo vedere Cosa fanno Hanno Grazie a tutti.